Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caluroso buongiorno a tutti i radioascoltatori Partiamo con i titoli dei quotidiani di Colalnazione, derby da vincere Corriere Fiorentino, il derby della maturità La Gazzetta dello Sport, Fiorentina al bivio Ma Pioli carica a Simeone Corriere dello Sport Stadio, l'ultra domenica La Repubblica, Fiorentina ora riparti Incontro squadra tifosi alla vigilia del derby Tutto Sport, Fiorentina a derby tesi I tifosi Viola sperano In un risveglio della Fiorentina dopo l'incontro Con la squadra, l'obiettivo è vincere insieme Per ripartire e mirare i posti più alti Della classifica, intanto La Font Reagisce alle critiche post Sassuolo In settimana allenamenti molto tirati Per il porterino francese che punta a sbalordire Firenze, per Fiorentina1.com Riccardo Barlacchi Del tifoso Viola